A microfono di settimana scorta abbiamo Andrea Viola, portiere della Sant'Irda Renese, oggi grande protagonista. A Ruentes abbiamo esso in difficoltà in diverse circostanze, però siete riusciti a segnare in un momento forse migliore loro? Sì, è stata una partita molto difficile perché abbiamo trovato un avversario molto tosto, molto grintoso, però io siamo riusciti a portare a casa Tremulli a premio meritatamente. Noi siamo una grande squadra, siamo belli e compatti, soprattutto in allenamento dobbiamo segnare al massimo, perché comunque l'allenamento è frutto poi della partita, sono veramente contento per questa prestazione sia individuale che all'interno di squadra e ora dobbiamo prestare già subito la domenica prossima e portare a casa Tremulli. Grazie.